I vostri figli riceveranno oggi l'identità cristiana e voi, padri e padrini, dovete custodire questa identità. Questo è il vostro lavoro durante la vostra vita, custodire l'identità cristiana dai vostri figli. È un lavoro di tutti i giorni, ma farli crescere con la luce che oggi riceveranno. Soltanto volevo dire questo, questo è il messaggio di oggi, custodire l'identità cristiana che voi avete portato oggi per ricevere i vostri figli.